Il versetto 24 del Salmo 118 è altrettanto famoso in ambiti nostri evangelici perché cantiamo o cantavamo forse molto spesso questo è il D, questo è il D fatto dal Signor vogliamo gioire con tutto il cuore, magari lo cantiamo adesso solo ai battesimi non lo so, ma questo è il versetto che dice questo è il giorno che il Signore ci ha preparato festeggiamo e ralleghiamoci in esso bello quale è il giorno che il Signore ci ha preparato? uno può dire si tratta del sabato, del giorno del culto sabato in Israele, la domenica nostra si, si, se questo è il giorno fatto dal Signor è anche la domenica o anche il sabato più propriamente preparato dal Signore per piangere per essere tristi, per criticare, per fare tutte le cose che facciamo no, per festeggiare e rallegrarci e gioire fare festa e gioire nel giorno preparato dal Signore ma qualcuno più spirituale può dire no, questo è il giorno del futuro del descatone del giorno preparato dal Signore quando Egli verrà abbiamo visto che ci sono diversi aspetti scatologici in questo salvo certo quando Gesù verrà quando Egli regnerà come noi crediamo da Gerusalemme che facciamo noi? stiamo a criticare? stiamo a dire le tasse sono troppo alte non è giusto questo, è giusto quell'altro no noi festeggiamo e ci rallegriamo e la condizione speciale nostra sa quella di gioia non avremo preoccupazioni qualcuno dirà eh ma dovremmo governare i quali non convertiti eccetera c'è Gesù ti mandi un'email i telefoni che ne so che fai c'è Gesù noi gioiamo lui regna noi gioiamo e qualcuno può dire eh questo è il giorno dell'eternità e quando saremo nell'eternità ci mettiamo a piangere lamentarci criticarci adesso non ho la minima idea di come sarà l'eternità l'eternità e come disse un fratello mi è piaciuto molto questa immagine è un po' come il bambino nel nel grembo di sua madre nell'utero che cerca di immaginare come sarà la vita non ha la minima idea non sa come sarà bello il sole il cielo gli alberi come sarà bello la natura come saranno belli gli uomini le donne non lo sa ma sa che vivrà è questo che noi sappiamo ma e se invece interpretiamo questo è il giorno che il Signore ha preparato come oggi come oggi per te oggi per me ogni giorno per me e ogni giorno per te questo è il giorno che Dio ci ha preparato ah e cosa dobbiamo fare lamentarci e brontolare e arrabbiarci festeggiamo e ralegriamo ci gioiamo in esso credo veramente che questo è quello che il salmista vuole dire che Dio ci vuole dire oggi è preparato per noi domani noi non lo sappiamo domani potremo essere morti mi auguro di no però potremo esserlo domani potremo non potremmo essere in situazioni precarie che nemmeno conosciamo oggi è il tempo che Dio ci ha preparato oggi è il giorno che Dio ci ha preparato ci ha preparato a noi questo giorno non l'ha preparato per l'Apostolo Paolo è già morto non l'ha preparato adesso io per John Wesley è già morto non l'ha preparato Petrovaldo è già morto l'ha preparato per me e per te come viviamo questa giornata la viviamo con rabbia perché dobbiamo andare a lavorare con rabbia perché abbiamo tanti impegni da compiere o ci rallegriamo o facciamo festa andiamo col Signore a dar Signore con gioia e con festa nei nostri cuori tutto questo salmo ci sta dicendo gioite alla mia presenza rallegratevi alla mia presenza fate festa alla mia presenza due sono i problemi uno ma io mi guardo dentro me e se non mi faccio far festa ma non sei chiamato a guardare dentro te tu fai festa guardando Gesù e due ho troppi problemi ma non sei chiamato a guardare i problemi guarda Gesù questo è il giorno oggi è il giorno che il Signore ci ha preparato festeggiamo e rallegriamoci in esso